Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sullo spaccio di droga nel centro storico agrigentino. Arrestato in via Tenea un 19 anno originario della Guinea in possesso di piccoli quantitativi di droga ed un tunisino di 22 anni trovato in possesso di mezzo grammo di hashish. I carabinieri di Agrigento sono entrati in azione dopo un'attenta attività investigativa e dopo aver notato strani movimenti nei vicoli della centralissima via Tenea. Il 19 anno è risultato essere ospite di una comunità di accoglienza di agrigento. Il giovane dovrà adesso rispondere dell'ipotesi di reato di detenzioni ai fini di spaccio di stupefacenti. L'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari. È risaputo anche dalle forze dell'ordine il fiume di droga che arriva ad agrigento e sono tante le segnalazioni ricevute da genitori preoccupati per la sorte dei loro figli che trascorrono il fine settimana in via Tenea, al viale della Vittoria, in via Pirandello ed in altri vicoli del centro storico. Un altro imponente blizze scattato dalla polizia in queste ore. Esserci sempre lo slogan della polizia, da sabato sere fino all'alba di ieri, con una fortissima presenza di uomini. Almeno 20 pattuglie, circa 50 uomini della questura di agrigento, comprese quelle del dodicesimo reparto mobile di Reggio Calabria, hanno raso al setaccio il triangolo dello spaccio, da via Tenea a piazza Ravanosella, passando per le vie Boccerie e Vallicaldi. Un autentico rastrellamento. È uscita tanta droga. Due immigrati sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di piccole quantità e altrettanti sono stati denunciati alla Procura. I poliziotti della sezione volanti della questura hanno effettuato dei controlli minati in dei locali pubblici. Un diciottenne è stato trovato nel bagno di una discoteca ed è stato arrestato, trovato con 50 dosi di cocaina e pochi grammi di marioane, 175 euro. Altri due ragazzini controllati fuori dalla discoteca sono stati segnalati alla Prefettura, quali consumatori abituali di stupefacenti. I poliziotti durante l'operazione di rastrellamento nel centro storico hanno anche elevato contravvenzioni varie per mancato rispetto del codice della strada. Hanno controllato persone sottoposte ai domiciliari ed altre misure. È stato il questore Maurizio Auriemma a predisporre la maxioperazione per prevenire e reprimere l'illecito traffico di sostanze supefacenti. Il dirigente delle volanti, commissario capo Francesco San Martino, ha invece coordinato le azioni in campo e le attività sul centro storico.